kiss me pezzo unico su tela di mr save the wall con questo soggetto ormai divenuto proprio logo icona dell'artista è un soggetto che prosegue nel tempo nelle sue varianti in questo caso con fondo pink e con una rielaborazione si noti dello stencil che viene sempre più elaborato lo stencil è un vero strumento artistico quindi non è sempre lo stesso se guardate gli altri soggetti cambia vengono cambiati dei dettagli sicuramente i colori primari impattanti ispirati chiaramente a quello che era il lavoro di Andy Warhol quindi molto molto pop e questo soggetto che l'artista ci ripropone in varie versioni quindi secondo una seriabilità e variabilità che continuano e che ci portano questo messaggio dal mondo delle fiabe il principe che viene baciato e diventa quindi da ranocchio principe ma poi rimane sempre un ranocchio grazie a tutti